Una data, solo una data per ripartire e tornare ad immaginare un futuro, è quello che chiedono le aziende che ruotano attorno al comparto del wedding in Italia come in Abruzzo. Abiti da sposa e cerimonia, fotografie, banchetti, viaggi di nozze, bomboniere, fiori, eventi in generale, sono tanti i settori travolti dall'emergenza Covid. Oggi in circa 30 piazze italiane i rappresentanti del wedding hanno manifestato per chiedere una data certa per la ripartenza dei matrimoni. È la terza volta che scendiamo in piazza, ora siamo 30 piazze italiane, chiediamo la ripartenza in sicurezza soprattutto dall'ultima novità che vede le crociere possibili, quindi noi ci chiediamo come mai su una nave da crociera possano convivere ovviamente con i tamponi, abbiamo capito bene il protocollo con i tamponi salivari tre giorni prima, come mai loro possono convivere 5.000 persone in una nave e in un ristorante non si possa svolgere una festa che potrebbe essere di 100, 200, 300 persone, tra l'altro magari parenti controllati e autocertificati. L'obiezione che viene fatta è che spesso da questo tipo di ricevimenti effettivamente siano poi arrivati dei focolai? Nel passato probabilmente sì, sicuramente perché l'estate scorsa non conoscevamo bene, non c'erano protocolli da seguire, adesso la situazione è assolutamente diversa, credo che abbiamo preso tutti coscienza dell'importanza di questo virus. Ci sono sposi che dal 2020 stanno rimandando al 2022, talmente nella disperazione, credo che, anzi non dico credo, li sento e li vivo, sono disposti a mantenere il rispetto che possono essere le quattro persone al tavolo, distanziati, hanno rinunciato al ballo, hanno rinunciato ai baci, l'importante è per loro poter festeggiare, parliamo dei matrimoni ma parliamo anche di battesimi, prime comunioni. In termini economici sono 67 miliardi di euro a livello italiano, nazionale, siamo 250 mila imprese, un milione di lavoratori dipendenti, regolarmente assunti e stagionali, siamo fermi da un anno. Il comparto specifico, quello dell'abbigliamento è quello che ha subito maggior danni perché abbiamo le imprese, le aziende di produzione che sono fermi con le produzioni, che hanno consegnato la merce attraverso i rappresentanti che non percepiscono ovviamente provvigioni attualmente perché noi atelier non siamo in grado di pagare la merce che abbiamo in negozio, in venduta e ci stiamo proiettando al secondo anno di fermo perché in realtà i matrimoni del 2021 sarebbero stati organizzati già da novembre e dicembre, quindi abbiamo già perso praticamente il 70% del 2021. Avete ristori? Nessun ristoro, i 600 euro l'anno scorso due volte per parlare dell'Inps e in quest'ultimo ristoro parliamo di un 3,5%, quindi se lei pensa un milione e mezzo di euro di fatturato, 35 mila euro di ristoro.